ciao a tutti benvenuti e ben ritrovati qui sul mio canale io sono giulia e oggi al pinky time vi porto il pinky time lab in questo pinky time voglio lanciare una novità che spero vi piaccia è una novità nata soprattutto da una richiesta che mi è stata fatta tramite i commenti del mio video e poi un'idea che mi è sorta così nel mentre che stavo rispondendo alla domanda che mi è stata fatta da una di voi e adesso vi racconto nel dettaglio oggi vi parlerò di una rivista che avevo già sfogliato insieme a voi tanto tempo fa e la trovate nel mio canale poi vi lascio il link qui a fianco oppure nella descrizione del video per farvi vedere di quale rivista sto parlando e soprattutto per sfogliarla chi non l'ha ancora sfogliata insieme a me la può vedere in questi video e andrò a ricreare i progetti della rivista ok di ognuna di queste riviste e vi darò una mia opinione personale questo però vorrei che fosse fatto anche da voi nel senso che quando io vi dirò una mia opinione mi piacerebbe poi leggere nei commenti il vostro parere sui progetti presentati di queste riviste qui perché sono sicura che anche voi avrete già una di queste riviste di questa collezione perché è una delle poche che ci sono qui in italia le riviste che parlano di amigurumi e l'unica che ho trovato al momento è questa e devo dire che sono veramente è fatto abbastanza bene ma non vi dico altro perché ci sono delle accortezze delle cose che ho visto durante la produzione di uno di questi progetti e ve ne parlo in questo video ma non ora prima di raccontarvi la mia esperienza con alcuni di questi schemi innanzitutto voglio avvisarvi che andrò a rispondere anche a una domanda che ho ricevuto in merito a un progetto presentato in questa rivista e la domanda mi è stata posta da donata sto facendo il dinosauro ho comprato il giornale ma non capisco come posizionare le zampe adesso giro la telecamera andiamo a sfogliare la rivista esattamente andiamo a vedere del dinosauro che è a pagina 30 eccola qui la pagina dove parla del dinosauro ecco questo è il risultato finale che ha ottenuto l'autrice originale che abbiamo detto che si tratta di jan schenke allora diciamo che tutto sommato ci sono alcune cose sulle quali posso mi trovo un po in disaccordo su quanto scritto primo fra tutti la difficoltà allora la il livello di difficoltà di questo schema a mio parere personale non è assolutamente facile anzi bisogna avere dimestichezza con gli amigurumi e soprattutto bisogna anche sapere essere bravi nella cucitura dei pezzi ok perché questo dinosauro viene costruito a pezzi non è un lavoro tutto su un pezzo come piace tanto fare a me e difatti i punti che si devono andare a realizzare separatamente sono la coda questa parte qui poi c'è invece le zampe il corpo e il collo con la testa invece questi vanno fatti tutto su un pezzo e la cresta anche questa deve essere lavorata separatamente a me non piacciono molto gli amigurumi dove si devono fare troppe cuciture e quindi già in questo punto non è che mi sono proprio divertita tantissimo a fare questo amigurumi questo ovviamente ripeto è sempre una mia opinione personale e ovviamente voi dovete darmi la vostra opinione vi piace la mia domanda alla quale mi aspetto un commento è vi piace di più creare un amigurumi tutto ad un pezzo oppure assemblare le parti fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e vi ricordo che in descrizione di questo video trovate i capitoli del video ok quindi se volete andare direttamente allo schema del della cresta o a vedere il video come ho composto le zampe ok potete cliccare nel video i minuti interessanti o vedere in quali minuti del video vado a parlare di questo argomento ok ho voluto questa tipologia di video con la time stamp ok la trovate in ogni mio video questo per semplificarvi nella visione e quindi andare a capire nell'immediato i capitoli di ogni mio video ok quindi mi raccomando andate a leggere sempre la descrizione e lì trovate tutto ciò che vi occorre per sapere nel dettaglio sia i materiali che utilizzato sia di cosa sto parlando i link descrittivi degli schemi e via discorrendo un'altra particolarità quindi di questo schema innanzitutto non direi assolutamente che livello di difficoltà è facile anzi direi piuttosto che è un intermedio ecco che non è difficilissimo ok per chi ha già dimestichezza con gli amigurumi però diciamo che per la costruzione di per sé non è proprio così facile diciamo che tutto sommato non ho trovato grossi problemi nella lettura dello schema finché non mi sono trovata a concludere il collo nel momento in cui sono andata a lavorare il collo ecco il mio risultato come potete vedere doveva venire con la testa rivolta frontalmente invece il mio dinosauro alla testa laterale che poi sinceramente non mi dispiace mi piace molto anche così però in teoria sarebbe dovuto venire con la testa girata da questo lato quindi in qualcosa non so esattamente spiegarvi in che momento però fatto sta che probabilmente il lavoro di aumenti che c'è da fare lungo il collo insomma mi ha portato a trovarmi con la testa rivolta dal verso di me insomma il dinosauro mi sta guardando non sta guardando frontalmente ok però devo dire che tutto sommato non mi dispiace nemmeno fatto in questo modo c'è tanto da cucire su questo amigurumi quindi c'è ad esempio da ricostruire una fascia qui sotto e anche ai lati e poi deve essere cucita e chi non ha dimestichezza con la cucitura come ad esempio io non ha un lavoro perfetto di fatti ho tanti difetti sui quali dovrò lavorare però diciamo grosso modo me la sono anche cavata però io l'avrei fatto tutto ad un pezzo e chissà che magari un giorno non mi metto a fare anche un dinosauro prendendo spunto sicuramente da questo schema perché le basi ho trovato tanti dettagli interessanti sulla costruzione del dinosauro in particolare mi è piaciuto molto la costruzione della testa del collo ok con anche il discorso del corpo con le zampe tutto sommato non mi è dispiaciuto però sarei partita forse forse dalla coda dalla coda poi avrei fatto tutto questo passaggio insomma chissà magari un giorno se avrò il tempo di ricreare un dinosauro disegnato da me vi farò un dinosauro tutto di un pezzo non di suddiviso in parti come in questo caso se invece voi avete dimestichezza con l'assemblaggio delle parti allora vi posso anche dire che questo schema tutto sommato non è così difficile da seguire se avete dimestichezza nel mio caso no non lo rifarei sinceramente perché mi sono trovata tanto in difficoltà ci ho messo un bel po prima di finirlo continuando a seguire tutto lo schema pensavo finalmente dopo aver assemblato la coda basta adesso non mi farà mica fare un altro altre cuciture no invece la cara jan insiste con l'assemblaggio delle parti e ha ricreato lo schema per fare sia le macchiette da attaccare dietro al sederino del dinosauro e anche la cresta in pratica si dovevano fare un due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci elementi da fissare poi alla fine sul corpo del dinosauro ecco quando ho visto che avrei dovuto fare altri assemblaggio mi sono rifiutata mi sono rifiutata perché erano già due giorni che ci lavoravo su questo dinosauro mi sono stufata al che cosa ho fatto mi sono ricreato una cresta a modo mio l'ho fatto direttamente sul tessuto e questa sarà la chicca che vi mostrerò in questo video vi farò vedere come fare una cresta di questo genere che può tornare utile per qualsiasi altro amico romi e non solo di un dinosauro ma potreste utilizzare questa cresta per fare che ne so un cavalluccio marino che mi pare sì anche lui ha delle creste lungo la schiena insomma vi potrete poi sbizzarire con questo punto utilizzandolo ovunque vogliate sui vostri amigurumi e sinceramente mi piace moltissimo oltre la semplicità nel realizzarlo piuttosto che andare a cucirmi ogni singolo ogni singola cresta su tutto il corpo no 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 mi dispiace iamma io proprio non ce la facevo più a usare ago e filo ma sono solo io che provo fastidio del dover assemblare le parti oppure sono in buona compagnia fatemelo sapere nei commenti rispondendo alla domanda che vi ho fatto precedentemente perché è una cosa che veramente mi infastidisce moltissimo dover utilizzare ago e filo sugli amigurumi quindi adesso detto questo ho fatto anche un ricamo diverso jan schenke ha utilizzato gli occhietti questi qua vi faccio vedere più da vicino questi occhietti di plastica no gli occhi di sicurezza e non ha fatto nessuna espressione nessuna bocca né niente io invece ho voluto ricreare questa striscia origin orizzontale come bocca e gli occhietti invece li ho ricamati utilizzando lo stesso filo che stavo usando per fare la cresta ecco se vi piace l'idea quest'idea qui fatemelo sapere nei commenti in caso vi farò un video per farvi vedere come ho fatto il musetto del mio dinosauro la mia opinione personale su questo schema ma anzi se devo dare un voto allo schema di jan valutando facendo un voto da 1 a 5 direi un 3 dai una sufficienza perché tutto sommato non è che non si riesca a seguire ci sono solo delle accortezze dei punti che veramente non erano proprio facili da comprendere e donata stessa mi ha dimostrato che non che c'era questa difficoltà soprattutto nell'assemblaggio delle gambe ecco nella lavorazione delle gambe questi foto questi foto tutorial non sono sufficienti per comprendere come fare la parte sottostante del del dinosauro anzi io addirittura sono andata a cercare un video tutorial della designer originale perché speravo di poter rispondere alla domanda alla domanda di donata facendole vedere il video della designer originale come fare questo passaggio ma non ho trovato nulla e quindi ho pensato di di realizzare io un video e quindi spero tornerà veramente andrà a rispondere alla domanda di donata e quindi spero sia utile anche a chiunque di voi a intraprea questa rivista e ha provato a fare il dinosauro e si è trovato in difficoltà in questa parte della dello schema benissimo allora cara donata io ti faccio vedere adesso il video tutorial di come ho fatto queste quattro zampine e nel e poi successivamente ti faccio vedere come ho fatto invece la cresta ok così spero di aver dato anche una chicca in più a questo dinosauro siamo arrivati al punto in cui abbiamo fatto la schiena eccola qui dopo sarà da imbottire però prima di andare a imbottire devo andare a rispondere a donata che qui il punto cruciale in cui si è trovata nell'esecuzione delle zampe quindi andiamo a vedere se riesco ad aiutarla a capire questo passaggio perché anch'io al momento lo sto facendo proprio in anteprima con voi allora vediamo per fare le zampe del nostro dinosauro leggendo lo schema dice di controllare il dinosauro e capire qual è la metà del posteriore la parte centrale del lato posteriore è qua dove ho all'inizio anche della catenella questa parte qui della catenella quindi in corrispondenza è qui quindi io devo raggiungere questo punto qua che il punto centrale quindi mi metto il marca punti qui benissimo ora mi dice di raggiungere il punto che mi sono segnata quindi mi tolgo questo marca punti perché probabilmente non servirà più e si sfrutterà il marca punti questo giallo quindi raggiungo il marca punti e sono da fare 1 2 3 4 e 5 eccolo qui bene ho raggiunto con cinque maglie il mio punto centrale del lato posteriore del dinosauro ok adesso che vedete infatti ci siamo una volta raggiunto questo punto anzi vado ad aggiungere un'altra maglia nello stesso punto in modo da fare un aumento quindi nella quinta maglia vado a fare un aumento bene ok adesso faccio 9 maglie basse ecco qui e poi bisogna fare adesso 6 catenelle una volta fatte le 6 catenelle tenete il lavoro verso di voi ok contate le 9 maglie basse antecedenti alla catenella quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e poi portate la catenella all'interno del lavoro e con l'uncinetto da davanti vi portate prendete il filo e fatto è la maglia bassissima ok in modo tale che la catenella vada internamente perché ora andremo a lavorare in tondo per fare la zampina quindi una volta fatte le 6 catenelle ora si prosegue facendo le 9 maglie basse e qua siamo a 9 vedete proprio all'inizio della catenella anche questo punto deve essere preso adesso si fa una maglia bassa in tondo per fare la catenelle in ogni catenella una volta lavorate le 6 catenelle poi si continua a seguire lo schema che dice per l'appunto di lavorare 4 giri di maglia bassa semplice per andare in altezza io mi segno sempre l'ultima maglia in modo da tener conto poi dei giri 1, 2 e questa è la mia ultima maglia della zampa in modo da tenere conto dei giri che vado a svolgere adesso per fare la zampina in modo da tenere conto poi in modo da tenere conto poi ok sono riuscita a finire la zampina adesso faccio quanto detto mi ha detto di tagliare il filo e adesso con la coda del filo vado a stringere un po' le maglie in modo da chiudere le 5 le maglie qui del foro quindi entro e vado ops ho preso anche il collo non va bene e cerco di passare dentro le maglie in modo poi da poterle stringere e così chiudere il foro anche se devo dire che non mi è venuto benissimo ecco fatto intanto la zampina l'abbiamo finita ora devo fare aspetta che faccio questo passaggio ancora ok dice di fare un nodino e quindi facciamo questo nodino così di passarlo dentro al lavoro e dopo poi andrà nascosto intanto lo lasciamo così da parte ok volevo farvi vedere ecco così fatto la zampina posteriore vedete adesso bisogna fare le altre 4 zampine quindi la prima zampa è questa posteriore adesso dobbiamo fare la zampa è anteriore quindi ci dobbiamo adesso spostare per arrivare davanti allora vediamo cosa dice dice di contare 9 maglie dalla prima maglia quindi da questo punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qui dovrei nella decima agganciarmi ok così bene e ora dice ok ora bisogna tornare a fare la zampina quindi vado a lavorare le 9 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok e ora devo rifare le 6 catenelle torno a raccontare le 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e in quella successiva io vado a fare praticamente laddove mi sono agganciata vado a fare la maglia bassissima per agganciarmi la catenella la spingo verso l'interno in modo che sia interno al lavoro la maglia bassissima e ora c'è da ripetere lo step come l'altra zampa ok quindi la distanza di 9 maglie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maglie ok prima di iniziare ad agganciarci e fare le zampine adesso io proseguo poi dopo aver fatto le queste a zampa qui si contano qui davanti invece 5 maglie di distanza da una zampa all'altra e infine per l'altra zampa si ripete lo stesso di questo quindi 9 maglie e poi si fa la zampina quindi ora io continuo non vi posso spiegare nel dettaglio tutto lo schema però se avete la rivista diciamo che questo è il passaggio insomma per fare le zampe ok ve le ho spiegate a grandi linee come si svolge la zampa e poi la distanza tra i punti è tutto indicato ok quindi io proseguo per finire la zampa e poi vedere come finire la parte centrale che vado anche così a rispondere ad un'atta che mi ha chiesto l'aiuto su questa parte qui ok eccoci qua vedete sono riuscita a fare tutte e quattro le zampine benissimo adesso quello che dobbiamo andare a fare è creare dei rettangoli che vadano poi a chiudere la pancia quindi per fare ciò allora andiamo ad agganciarci proprio qui sulla base della zampina posteriore ok lanciamo con il filo con la maglia bassissima la bene e adesso lavoriamo le maglie lungo questa riga qui allora portiamoci dietro anche la coda così la nascondiamo già dentro ok sono nove le maglie da lavorare ok da questo lato bene ora dobbiamo fare un rettangolo che vada poi a chiudersi da questo lato e per fare ciò facciamo adesso e dalla seconda alla dodicesima riga come indicato da schema facciamo una catenella giriamo il lavoro e lavoriamo delle righe di maglie basse lungo tutta questa linea appena fatta una catenella giriamo il lavoro e proseguite ecco qui una volta fatte le dodici righe questo sarà il risultato quindi avrete ricreato questo rettangolo che poi andrà fissato dall'altro lato ma prima di fare questo lo andiamo a tagliare il filo quindi lo tagliamo e lo lasciamo un po' lungo dopo lo usiamo per cucire ok intanto tiriamo via così andiamo a ricreare un altro rettangolino piccolino da questo lato quindi 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 vado ad agganciarmi allora nel mio caso ad esempio allora voi dovreste avere qui dietro 5 maglie ok devono essere tra una parte e l'altra io qui dietro invece ho calcolato male le maglie quindi andrò innanzitutto a stringere quindi vado prima a diminuire faccio le diminuzioni ai lati perché qua ho davvero tante maglie voi dovreste trovarvi invece con 5 maglie se avete seguito bene lo schema della rivista ok quindi sia sul dietro che il davanti 5 maglie basse ok quindi facciamo vi agganciate col filo ok iniziate a svolgere le prime 5 maglie la prima riga di 5 maglie e ne fate altre due righe quindi una catenella e facciamo altre due righe di 5 maglie basse ok anche qui tagliate il filo lasciando lunga l'estremità che poi useremo successivamente per cucire e tiriamo via e facciamo quindi anche da questo lato ci agganciamo e facciamo altrettante tre righe di 5 maglie basse due rettangolini piccoli ai lati da 5 maglie e una invece da 9 maglie basse centrale che andrà adesso fissato dall'altra parte quindi ora tagliamo il filo anche di qua che poi sarà da passare alla cucitura allora adesso andiamo prima di tutto a riempire le zampe teniamo fuori i fili dei rettangoli mentre quello delle zampe le buttiamo tutti dentro che adesso andiamo a ricoprirli con l'imbottitura dobbiamo mettere anche l'imbottitura all'interno delle zampine dobbiamo mettere anche l'imbottitura dobbiamo mettere anche l'imbottitura dobbiamo mettere anche l'imbottitura da fare anche l'imbottitura si non so non so è la mia Grazie a tutti. 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 Ebbene amici e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.